Sei studente o lavoratore? Studente. Cosa pensi della tua scuola? Diciamo organizzativamente pessima. Inizialmente le prospettive sembravano molto ampie, poi sono state ridimensionate, perché come sbocchi ce ne sono pochi e a livello pratico ci sono pochi spunti. Secondo te quali sono le priorità di Empoli per i prossimi cinque anni? Penso che dovrebbe essere quello di allargare la partecipazione a livello giovanile. Cosa pensi della politica italiana? Penso che sia ristretta all'ambito, cioè sia ristretta a pochi, all'ambito di quelli che partecipano, cioè la partecipazione sia bassa. Penso che coinvolga poco quelli che realmente dovrebbero intervenire. Voti? Sì. Perché? Perché penso sia un diritto e un dovere, perché mi interessa che sia io in prima persona a migliorare, a portare un mio contributo. Se tu fossi un politico, quali pensi siano le priorità del centro-sinistra? Le priorità dovrebbero essere quelle di garantire sbocchi occupazionali, garantire la sicurezza, migliorare la qualità della nostra vita.